Il conto alla rovescia è già partito, c'è tempo fino al 31 dicembre per trovare una soluzione. In quella data scadranno molti dei contratti dei circa 20.000 precari degli enti locali siciliani, lavoratori che in molti casi sono nella pubblica amministrazione ormai da decenni e che fino ad ora sono andati avanti grazie alle proroghe. Proroghe che però per il prossimo anno sono al momento impossibili. Il Parlamento nazionale ha infatti posto dei paletti molto rigidi al rinnovo inserendo condizioni vincolanti difficili se non impossibili da rispettare per i comuni siciliani. L'unica soluzione al momento sembra quella di far passare tra le maglie della legge di stabilità con un emendamento mirato una deroga per la Sicilia vincoli su spese e dotazione organica. Per fare questo però il Presidente della Regione dovrà mettere sul tavolo del Governo nazionale i provvedimenti presi in tema di taglio e spending review per convincere l'esecutivo del percorso già avviato. Era stato nei giorni scorsi il Ministro per la pubblica amministrazione Giampiero D'Alia a ricordare che nel 2010 la Regione aveva usufruito delle proroghe ma senza poi rispettare le condizioni che le accompagnavano ovvero taglia la spesa pubblica e ricerca di nuove risorse insieme a riduzione del bacino del precariato. Proprio il Ministro oggi incontrerà a Roma il Governatore Crocetta oltre al capitolo delle proroghe ce ne sarà un altro da affrontare strettamente legato quello delle future stabilizzazioni.